Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Ma anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'odice più alto. I miei genitori, i due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, e ce l'avamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo l'ha già segnalato a chi l'ha visto. Quelli non ho mai trovato nessuno, il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo lascia solo, piange in diretta con Sandra Milo. Giro, 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 per non parlare di mio fratello che gli ha rotto l'osso del collo, ora fai il morto al telefono giallo. Eccolo lì, come ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti i tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. E sullo spromottencio dei parenti li ho rivisti, belli, contenti, nello speciale Rappi Metti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo, che è un alfabeto, ma ha scritto un romanzo, è sempre lì da Maurizio Costanzo. Faccio Maurizio che arrivo, eh. E la fortuna di nanna fiera, che ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso vent'anni un giorno in freddura. Ma in televisione poi piangono. Il mio zio è un travestito di nome Banda, fatti soldi, ha comprato una banda, da quando è andato a San Marcanda. Come ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti i tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. Chi c'è rimasto ha già accettito, completamente rincoglionito, danzavoli fabbricati sta perdito. Io li ho riprovati tutti, eh. E alla fine c'è il nonno Renato, che c'è l'Aiz da quando è nato, ha avuto un torbino fotanino d'amato. Gli chiedono gli autografi. Mi ha presentato la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Il bel paese sorvidente, dove si specula allegramente sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, stiamo diventando tutti scemi. Pronto, 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 stiamo diventando tutti i coglioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. Pronto, 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 stiamo diventando tutti i coglioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. Grazie per la visione!